allora oggi è passato a trovarmi alessandro si chiama proprio come me anche e appunto sono qui alla reception perché devono arrivare alcuni ospiti e il padre invece sta facendo dei lavori sulla insomma vicino alla stalla stamattina hanno macinato la farina lui e luca e adesso deve caricare del fieno ecco io mentre ero qui che aspettavo è passato a trovarmi alessandro e i suoi genitori va bene dai buona serata a tutti